È un allarme perché è stato notato proprio un calo deciso, abbastanza evidente, delle vaccinazioni, sia quelle obbligatorie che anche quelle non obbligatorie. Vaccini in calo, la copertura, in particolare per alcune patologie come rosolia, morbillo, parotite, è al di sotto della soglia di sicurezza, un dato che costituisce un grosso rischio per i più piccoli e in generale per la salute pubblica. La mancata iniezione non riguarda infatti soltanto il singolo, ma produce effetti negativi su tutta la comunità. La preoccupazione è figlia dei numeri che parlano chiaro. Questo è un dato che ha portato veramente a un calo, per esempio dell'esavalente, dal 96% nel 2013, 2012-2013, a un 94%, quindi al di sotto di quella soglia del 95% che è stata definita dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come la soglia di sicurezza, proprio per evitare che queste malattie si ripresentino. Un altro dato importante, morbillo e rosolia. Addirittura a questo dato siamo arrivati dal 2013, passa al 90,5%, siamo scesi all'82%. La tendenza antivaccini si è diffusa in particolare negli ultimi anni e i motivi sono diversi. Siamo abituati ormai a vivere senza più la poliomelite, senza più la difterite, perché sono malattie che sono state debellate grazie proprio alle vaccinazioni. Forse per questo, forse perché non abbiamo il contatto diretto con la malattia e poi anche perché ci sono campagne, ovviamente su internet mi riferisco, e altre campagne denigratorie sulle vaccinazioni che ovviamente hanno fatto il resto. Tra i contrari al vaccino c'è chi sostiene una possibile correlazione tra iniezione e alcune patologie invalidanti, come ad esempio l'autismo, un legame smentito dalla ricerca scientifica, come hanno sottolineato oggi i consiglieri dell'Ordine, Daniele Lietti e Luca Levrini, ribadendo che, in termini di prevenzione, il vaccino è il più grande successo della medicina. Proprio per contrastare lo scetticismo nei confronti delle vaccinazioni e il conseguente calo, l'Ordine dei Medici di Como ha organizzato una campagna di comunicazione sociale che invita ad un confronto diretto e continuo con il proprio pediatra o medico di base, davanti a qualsiasi dubbio, evitando così di informarsi da soli su internet. Dal 17 al 31 ottobre verranno affissi i manifesti in città, mentre il 4 novembre, dalle 17 in Biblioteca Comunale a Como, è stato organizzato un incontro pubblico perché non avere paura delle vaccinazioni, con medici e specialisti pronti a rispondere alle domande dei cittadini. Il giorno successivo è invece in programma un convegno medico sullo stesso tema, dal titolo Vaccinazioni tra scienza e pregiudizio.